Sono Matteo Ghiotto e sono sportellista presso lo sportello linguistico franco-provenzale di Giaglione. Mi occupo in particolare di lingua e soprattutto di traduzioni, di corsi. In particolare abbiamo attivato tutta una serie di corsi di lingua che teniamo in modo itinerante sul territorio, così come traduzioni di libri quali La gabbina e il gatto, Il piccolo principe, che sono utili e molto importanti per la divulgazione, non solo la promozione, la valorizzazione della lingua in senso letterario. Così come stiamo lavorando ad un dizionario informatizzato di tutte le varietà franco-provenzali o citane della provincia di Torino, o città metropolitana, che dovrebbe a breve uscire ed essere reso pubblico, un lavoro molto importante che raccoglie un numero di collaboratori e che da diversi anni ci vede impegnati nella collezione di moltissime migliaia di dilemmi. È un lavoro prezioso, speriamo che possa essere uno dei tanti modi per consegnare alle generazioni future, ai decenni a venire, un patrimonio che rischiava, speriamo non sia più così, di venire meno con l'evoluzione culturale anche dell'ultimo periodo. Per quanto riguarda altre attività dello sportello, noi garantiamo un'apertura degli sportelli che è continuativa, settimanale, ma poi per repelibilità tutti i giorni e abbiamo un certo numero di persone che ci contattano, sia fisicamente che via mail o secondo altri canali di comunicazione, ai quali noi diamo le risposte che loro necessitano e le loro curiosità.